Come sviluppare una motivazione vincente? In questo video voglio spiegarti quali sono i mezzi, gli strumenti per sviluppare una motivazione vincente, una motivazione che ti permetta di raggiungere i tuoi obiettivi. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. E veniamo al tema di come sviluppare una motivazione vincente. Intanto che cos'è la motivazione? Motivazione, è un motivo all'azione. Perché noi facciamo le cose che facciamo? Quindi quali sono i motivi che ci spingono ad agire? Se noi riusciamo a capire quali sono le leve che ci spingono ad agire, impareremo ad agire, a fare le cose che vogliamo fare o evitare di farne altri che non vorremmo fare. Dentro di noi ci sono delle motivazioni, delle spinte motivazionali molto forti. Spitte motivazionali alla sopravvivenza, spitte motivazionali all'accoppiamento, spitte motivazionali secondo ad esempio la scala di Maslow anche a essere conosciuti, ad essere sicuri, a soddisfare i propri bisogni. Se hai fame, beh, hai la fame è una spinta motivazionale a procurarti del cibo, ma anche a respirare, anche a vivere. La spinta motivazionale, la forza della vita è una motivazione molto importante. Anche se, diciamo, insomma, ci sono delle motivazioni per così dire intrinseche, che dobbiamo imparare a utilizzare per poter raggiungere dei risultati e degli obiettivi. La motivazione è, diciamo, è anche qualcosa di più però che una semplice, diciamo, volontà. E dobbiamo anche tenere presente che spesso, ad esempio, il bisogno di sicurezza potrebbe andare contro alla voglia di ottenere risultati nuovi. Nella nostra vita ci saranno sicuramente delle cose da fare che non ci piacciono, delle cose da fare noiose, però a livello logico sappiamo che queste cose potranno darci dei risultati importanti. Qualunque apprendimento potrebbe essere noioso, che ne so, immagino che io non suono, però imparare a suonare uno strumento musicale prevede degli esercizi anche noiosi. Anche imparare qualunque cosa, un'arte marziale, un ballo, qualunque cosa, prevede delle cose da fare che di fatto sono noiose, ma non sono collegate neanche alla sopravvivenza, neanche a niente, no? Anzi, diciamo che ci sono degli ostacoli a fare queste cose, perché diciamo noi abbiamo una zona di comfort nel quale ci troviamo, dove ci sono routine, abitudini che ci danno comunque sicurezza. Imparare, fare qualcosa di nuovo e dobbiamo trovare la motivazione a farlo. Quindi per fare alcune cose in realtà è necessario andare a ricercare una motivazione. Perché lo facciamo? È molto più facile, diciamo, in alcuni casi lasciarsi trasportare da delle compulsioni. Ad esempio, se una persona vuole dimagrire, deve trovare la motivazione a dimagrire. E non è che questa motivazione sia così naturale, perché magari sentiamo la spinta verso il bignè, sentiamo la spinta verso la Nutella, e invece dimagrire vuol dire rinunciare a delle cose, no? Quindi non è detto che la motivazione sia sempre qualcosa di naturale, spontaneo, diciamo, che non possiamo fare diversamente. Quindi spesso abbiamo delle debolezze interiori nel fare delle cose. Quindi queste debolezze interiori è quella vocina che dice, ma sì, ma dai, ma mangiti ancora un po' sta Nutella che te ne frega della linea. Oppure, ma sì, si vive una volta sola. Quindi noi dobbiamo imparare a superare queste debolezze, a vincere queste debolezze per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Quindi dobbiamo imparare ad automotivarci. Quindi ci sono delle cose che sono intrinsecamente motivate, come ad esempio il ricercare cibo, il ricercare l'accoppiamento, cioè c'è una spinta. Altri che dobbiamo trovare noi la motivazione, e che non è così semplice, ad esempio per dimagrire, per mettersi su un fisico, allenarsi. Beh, non è detto che ci sia una spinta naturale, anzi spesso ci sono degli ostacoli. Quindi dobbiamo imparare a trovare il modo per automotivarci, a raggiungere un obiettivo. Senza restare incatenati alla routine, senza restare incatenati a delle decisioni che magari non prendiamo noi consapevolmente, ma che ci inducono a fare delle cose che magari a livello logico non vorremmo fare, però poi ci troviamo in qualche modo da fare. Ad esempio andiamo al lavoro al mattino perché siamo motivati da una spinta alla sopravvivenza. Ed è una cosa che normalmente, se uno potesse magari fare una meno, preferirebbe, che ne so, fare dell'altro, no? Ma però perché andiamo a correre magari se piove? Se tu vuoi trovare delle scuse non ci vai, quindi perché non è collegato ad una spinta, diciamo, di sopravvivenza. Quando si mette in gioco la sopravvivenza le motivazioni diventano forti. Quindi il vero trucco per riuscire a gestire, diciamo, le motivazioni è a collegare quello che tu vuoi fare a un qualcosa che sia la sopravvivenza o l'accoppiamento. Quindi devi iniziare a vedere te che mangi di meno come la possibilità di vivere, di vita, e devi creati l'immagine di una volta che mangi a Nutella di tu che stai morendo, che stai morendo di infarto. Devi creati proprio questa immagine in modo tale da associare un'immagine di morte, un'immagine di non accoppiamento, di vederti rifiutato dagli uomini, dalle donne che ti piacciono e creati un'immagine invece di vitalità, forza, energia e di riuscire ad accoppiarti o da, diciamo, ad avere le persone che vorresti avere nel momento in cui fai una cosa che inizialmente magari non ti piace, come andare in palestra, come seguire una dieta, eccetera. Il vero trucco è quello, utilizzare queste due leve che sono intrinseche dentro di noi, che sono la motivazione a fare le cose che ci fa vivere e le motivazioni a fare le cose che ci fanno accoppiare. Queste sono le due grandi leve, diciamo, che muovono. L'associazione aspetta a noi a farla perché in alcuni casi è naturale, cioè se ho fame, beh, la spinta la sento, la sopravvivenza la sento, ma in alcuni casi non è così immediato il fatto che la Nutella mi fa morire o, che ne so, la brioche tutte le mattine mi fa morire. E questa associazione, se non voglio più mangiare Nutella e brioche, devo farcela io, devo forzarla io. Come? Il fatto di magari andare a correre, andare a fare sport, mi darà possibilità di trovare la persona giusta e di fare un accoppiamento. Ecco, se inizio a creare delle immagini mentali in questo modo, allora inizio ad avere la possibilità di poter anche fare delle cose che mi fanno andare oltre la zona di comfort, mi fanno superare anche delle situazioni che altrimenti non riuscirei a superare. E questo è la chiave, diciamo, se vogliamo imparare ad automotivarci, imparare ad associare le cose giuste, non attraverso la logica, non attraverso la ragione, ma attraverso l'immagine, l'immaginazione che è un qualcosa di molto forte, molto potente e vedrai che troverai le giuste motivazioni. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, se il video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici, ovviamente, e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, potrai abbonarti, e per abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati e poi potrai scegliere il livello di abbonamento che preferisci. Ciao a tutti!